Non si fermano le indagini della squadra anticrimine del commissariato di Sulmona dopo l'arresto del capoclan della Camorra. Gli inquirenti stanno verificando se l'uomo, FM, avrebbe avvicinato le personaggi sulmonesi della sua attività. Le indagini condotte dal personale della squadra mobile di Napoli, stretta e costante collaborazione con la squadra mobile dell'Aquila e soprattutto con il commissariato di via Sallustio, avevano preso l'avvio nel momento in cui il boss è stato ammesso alla detenzione domiciliare per motivi di salute ed emerso che non appena uscito da carcere aveva ripreso le redini del clan dando precise indicazioni agli affiliati. Uno dei primi atti compiuti dal capoclan era stato quello di vietare agli affiliati di svolgere attività di spaccio di droga nel territorio giulianese pena l'adozione di severi provvedimenti. Nelle conversazioni intercettate dalla squadra mobile di Napoli, secondo quanto riferito dalla direzione distrittuale antimafia e dal GIP, Domo parla esplicitamente di affari del clan, di estorsioni, di riempieghi, di pestaggi e attentati, di pagamento degli stipendi agli affiliati, del sommenzionamento alle famiglie degli affiliati detenuti, delle dinamiche interne e vari gruppi operanti all'interno del clan. Eclatanti poi colloqui tra il boss e i dirigenti di altri clan che riguardavano investimenti effettuati in attività economiche, il pagamento degli stipendi agli affiliati, estorsioni, riciclaggi e investimenti del clan, competenza territoriale del clan, gestione della cassa del clan, contrabbandoli sigarette, gestione di agenzie di scommesse, nonché realizzazione di progetti di edilizia residenziale, controllo delle attività economiche nelle zone controllate dal clan, ruolo dei parenti e dei detenuti come portatori di messaggi, accollo delle spese legali agli affiliati detenuti, gestione del mercato della frutta Giuliano, rapporti con rappresentanti di altri clan, i propositi di ritorsione nei confronti del collaboratore di giustizia Giuliano Pirozzi. La presenza sul territorio sulmonese del boss e della camorra non era sfuggita la polizia giuriziaria nel commissariato sulmonese che già due anni fa aveva segnalato la sua attività alla squadra mobile dell'Aquila. Per i poliziotti sulmonesi sono stati due anni di lavoro attraverso intercettazioni telefoniche ambientali, pedinamenti, servizi di osservazione e tabulati telefonici.